Sì, mi serve proprio che me lo tengo così Anche perché poi è abbastanza simmetrico, sì Perfetto, me lo tengo così Ok, scendiamo giù giù Sconsiamo qua tutta la schifezza che abbiamo fatto Oh no, potevo fare così Tipo il tetto a spiametti Oh no 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 no, mi serve altro Dimmi che posso farlo Dov'è, dov'è? Sei, solo sei? Eh vabbè, mettiamolo a cuocere altro Eh questi ci vogliono per inaugurare la casa Allora, come lo mettiamo? Sì, mettiamolo normale Così, così, così Così, così Nel frattempo aspettiamo che cuoce quello Facciamo i pannelli Perfetto 16 e bastano molto Eh, vabbè dai facciamo gli altri Facciamo anche delle fence Oh no, con gli sticchetti si fanno No Perfetto Oh che fortuna, ne avevo altri Che cosa devi fare? Allora Questi li mettiamo qua Perfetto Perfetto Eh, il finestrone Il finestrone Oppure Grate Tipo No, allora direi di illuminare la casa Facendo altre No ok, siccome abbiamo solo No, ok Lasciamo stare Mettiamoli qua dentro Potrebbero anche servire È finito? Sì Già 8 Wow Sì, è diventato veloce 8 mattoncini Bastano Molto È vero Cavolo Dobbiamo fare ora altri Oh mio dio Facciamo altri Steccati 8 8 8 12 Perfetto 6 Sì, basta Ok, andiamo fuori E finiamo la casa Finalmente No, non direi Aspetta Mettiamo lì Se li mettiamo a terra Vediamo 6 1 6 1 2 3 4 5 6 Perfetto Li mettiamo nella parte alta Che se no non ci basta Non parte alta in quel senso Perfetto Si, facciamo anche così Facciamo un'altra Un altro po' Oh cavolo Che sto facendo Così E così Ok, basta Stavolta Basta Prima che poi Ci dilunghiamo troppo Oh, adesso Montiamo i pannelli E la casa Può essere considerata Finalmente Finita Quanto Fence Mi sono rimaste Due Due Sempre due Perfetto La casa è finita Se non fosse per il fatto Che Devo fare Tipo Un'entrata Ah no Guardate Mi rimangono ancora Qui Qui Perfetto Non mi bastano Una rosa Guarda È già una fortuna Che mi sono avvenenato Oh, ora Ora prima che Tipo Spuntano Una marea Di mob Direi di fare Una scala Che porta su La facciamo qui Vicino alla porta Perfetto Perfetto Facciamo delle scalette Di legno Ma Sì Forse basta Mi sembra ne danno tre Solo tre Cinque No No Cavolo No Mi bastano Ok Adesso mi bastano Circondiamo di torce Lassù Tipo Sentivo Ah ecco Ero io Che stavo salendo le scale Perché adesso Non sono Sendo cambiati i suoni Tipo Fanno ancora più schifo No vabbè Sono belli E questo Lo mettiamo qua Tutto molto simmetrico Tutto molto simmetrico Tipo Andando ad occhio Non è questa la metà Ma è questa Tipo Però siccome non è simmetrica Ne mettiamo due Perfetto Scendiamo Andiamo a dormire Prendiamo il letto Tutte queste cose Allora devono sparire Da qua Si devono posizionare In un modo migliore Questo lo mettiamo qua No Cavolo Sapete cose Mi sono dimenticato Anzi solo una Qua me ne sono dimenticato Questo qua Perfetto E forse me lo sono dimenticato Da qualche altra parte No Quindi direi di Andare fuori E andare dentro No Direi di conzare Il portale del nether Facciamolo Facciamolo su dai Tipo non lo posso fare Vediamo Qua Tre Eh che cavolo Viene Però così Mi sembra che lo posso fare Uno Due Tre Quattro Intanto facciamo una prova Con il Uno Due Tre Quattro Cinque Vediamo Uno Due Tre Quattro Cinque Sì Perfetto No Cavolo Così Non viene Perfetto Io direi di farlo allora Sempre qui dai Cioè però Non viene È una cosa Bellissima Quindi dai Facciamolo fuori Allora Facciamolo fuori E lo facciamo Allora Qui ci sono le finestre Perfetto Questo qua Sempre fame Perfetto Qui Proprio accanto Alla stanza Oh mio dio Maledetti Io me lo immaginavo C'era qualcuno Dietro di me Mi si è stuppato Anche il naso Pazzesco Stuppare Per chi non lo sapesse Significa Mi si è liberato Il naso Che c'avevo Il naso chiuso Me lo aspettavo Mi è venuto Un colpo Un colpo Al cuore Come si deve fare Con questi creeper Perfetto Facciamo il portale Una volta per tutte Quanto è alto? Due Tre Quattro Allora Facciamolo a terra Siccome poi dei pezzi Non si vedono Quindi lo possiamo fare anche Con due pezzi in meno Volevo dire Perfetto Io sbaglio Quindi facciamo così Perfetto Così 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 Perfetto Allunghiamo Così Così No Questo no Così Sì sì Facciamolo All'interno Però Così Non copre Eh Cavolo Facciamoci un accetto Per ricoprire Le cavolate Questa è già fatte Allora Questi qua Ne spostiamo Ne creiamo Al limite Più di due Poi Questa La spostiamo Anche Facciamo un accetto Dai Che mi sto rompendo Non facciamo come L'altra volta Che ho fatto Un piccone Ok Questa qua La mettiamo La mettiamo La mettiamo Qui Li mettiamo Altre Altre Due fornaci Con una Crafting table Perfetto Mi sembra giusto Ora devo trovare Dai Dove sei? Pollo Oh Che culo Insomma Culo Dopo che ci riprovo Per tre volte Direi Allora Se qui va La crafting Allora Mettiamo Però tutto qui Eh Sì Mettiamo Intanto Tutte cose qui Programmiamo Intanto Finiamo di Programmare La casa Poi Nel prossimo episodio Cominciamo a fare Coltivazioni E tutt'altro Allora Finiamo Finiamo la casa Allora Prendiamo Cobblestone La cobblestone Ci serviva Sì Per fare i muretti Mi sembra Si fanno così Sì Però Siccome dobbiamo fare Le fornaci Facciamo Facciamone Due Ok Poi Facciamo No Di più Sono tre Già sicure Cinque Devo fare Cinque Sette Allora Prendiamo Queste Prendiamo Anche Questa E Prendiamo Anche Questa Poi Facciamo Un'altra Crafting Table Facciamo Un'altra Crafting Table Da mettere In stanza Perfetto Adesso Abbiamo Finito Penso Questo qui Questo qui Questo qui Questo qui Questo qui E poi Sì Allora Lo faccio Attaccato Sì Dai Facciamo Attaccato Perfetto Mezza Casa È vuota Ci facciamo Qua Librerie Oppure La stanza Gli incantesimi Sì Meglio 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 Di quant'è Quattro Perfetto Oh Perché mi Mi cala così tante Framerate Comunque Allora ragazzi Ci cominciamo a salutare Abbiamo finito di fare Tutta la casa Finalmente Direi che possiamo Salutarci Con 30 esperienze E 3 Cosciotti di vita Vi saluto Vi invito a lasciare un bel mi piace Se l'episodio Anzi L'episodio Vi sono piaciuti La casa Tutta questa Non è una Ah Ok Perfetto Finiamo anche di Togliere sto coso Questo abominio Allora direi di Accendere il portale E di Salutarvi Senza preavviso No vabbè Non lo farei mai Dov'è Dov'è Ce l'ho in mano Ce l'ho in mano Perfetto Con l'accensione del portale Noi ci salutiamo Perfetto Si è accesso No ancora no Ora si Vi saluto E Ciao ciao